Continuare a correre dopo il tormentato periodo di flessione per insidiare il primato e mantenere ancora intatto un sogno. Le nubi che si sono diradate hanno ripristinato il contatto visivo con la vetta e adesso per compiere la scalata serve aggrapparsi ad ogni punto in quello che si approssima ad essere il momento più decisivo del campionato. Dal capo i prati di Fiuggi, diciannovesima giornata di Serie D, Girone F, atletico contro Chieti, un saluto da Francesco Mafera e Marco Daguanno. E si comincia, è iniziata, atletico Chieti, buon divertimento. Adesso si incarica della rimessa laterale, Turzo che va a lungo con le mani a cercare ancora Flores che scambia di nuovo col 30, che si prende il fondo, lato corto, ancora il pallone arretrato, attenzione, Bsoe non arriva dall'altra parte, prova a coordinarsi. Pietrantonio che poi rimette in gioco con le mani, il colpo di tacco, tentato. L'avversario prova anche adesso, non riesce a fermare. Poi attenzione al tiro, è il gol! Il grandissimo gol all'improvviso. Trovato dal giocatore del Chieti che si è girato in modo fulminio in area di rigore e ha affreddato Meiri. Grandissimo gol. Poi apertura a sinistra verso Pietrantonio che punta ancora l'avversario. Va all'attraversione, ancora in area di rigore. Verso Orlando che si gira! Gran tiro e grande risposta questa volta di Meiri che si fa trovare pronto, evitando il raddoppio. Ancora all'indietro. E parte un cross ancora a vizzi in area di rigore. Deve arretrare poi il pallone dentro per Lombardi. Posizione regolare, il piazzato, la risposta con i piedi di Meiri. Pallone all'indietro verso Chiacchia. Il traversone verso l'autore del gol. Poi prova a coordinarsi un giocatore del Chieti al limite dell'aria. Svirgolano in più circostanze i giocatori di Romondini. Poi il destro e qui Meiri compie un altro miracolo. Con il destro ancora girata verso la porta che non inquadra lo specchio. Il cross stacco imperioso e miracolo di Meiri. Fischia l'arbitro e si riparte. Si può riprendere. Ecco il cross a rientrare sul primo palo. Attenzione alla mischia. Poi il destro e il pallone in rete. Il 2-0 del Chieti. Qui al capo Iprati. Destro sul quale non ha potuto far nulla ancora Meiri. che dopo aver sventato più volte il pericolo, questa volta, non è potuto arrivare sul pallone. Invio verso Flores. Che passa senza fallo. Ancora Flores dentro. E Gallinari l'appoggia dentro. Si riapre la partita al capo Iprati. È 2-1. 2-1. Il gol di Gallinari. Il rinvio lungo. Arbitro che controlla il cronometro. E poi fischia tre volte. Passa il Chieti al capo Iprati per 2-1. Con le reti nel primo tempo di Fabrizi e nella ripresa di Di Mino. E poi il gol a riaprire i giochi nel finale. A un quarto d'ora dalla fine di Gallinari. che fissa il punteggio sul definitivo 2-1. Per Sport in Oro è tutto dal capo Iprati. Un saluto da Francesco Mafera e Marco Daguanno.